Per rispondere positivamente al caro energia, i ragazzi dei corsi nuoto delle piscine comunali di Valdoviadene al saggio di fine anno ci illuminano con le candele al posto dei fari e muovono l'acqua con braccia e gambe al posto dei sistemi di ricircolo dell'acqua. Sarà un momento difficile ma nessuno toglie l'entusiasmo e la passione a questa grande famiglia. È il posto del sindaco Luciano Fregonese che mostra la voglia di andare avanti nonostante gli aumenti che mettono a rischio anche gli impianti sportivi come palestre e piscine. Così si spengono le luci e ci si ingegna usando dei faretti in testa pur di tenere aperte le strutture. È Pierpaolo Longo di Asso Nuoto a fotografare con i numeri la situazione. Nel novembre 2019 la bolletta del gas per la sua piscina era poco meno di 4.000 euro, 6.000 euro nello stesso periodo dell'anno successivo, costi lievitati ad oltre 18.000 euro a novembre 2022, aumenti che lo hanno portato ad una scelta sofferta. Il primo anno chiudo anch'io dal 25 al 9. A novembre, aggiunge Longo, viste le bollette si era ipotizzata addirittura una chiusura per tutto il mese di gennaio e febbraio. Contenti dei flussi ma soprattutto delle richieste della nostra utenza ci siamo limitati ai 15 giorni, barra 3 settimane per alcuni impianti. Altre zone tipo il Padovano ha deciso di chiudere un pochino di più ma non ha concentrazione di impianti che riescono a garantire il servizio. Nella periferia gli impianti sono un po' più disseminati per cui fanno forza nel tenere aperta perché la voglia di lavorare c'è.